Ciao a tutti, benvenuti e bentornati in questo nuovo video, messaggio interattivo sempre. Vi ricordo che sul mio canale potete trovare video messaggi, canalizzazioni, nomi e data di nascita. A tal proposito vi ricordo di scrivermi il vostro nome e la vostra data di nascita qualora voleste un video dedicato su curiosità e caratteristiche sulla vostra persona. Vi ricordo che sotto ogni mio video trovate il link di riferimento dove potete visionare i mazzi che io ho creato ed eventualmente acquistarli. Potete prendere i miei contatti per chiedere di parlare privatamente con me e chiedermi informazioni per un consulto privato con me. Sono rimasti veramente pochissimi posti per quanto riguarda l'affinità tra anime. Mi raccomando, sono dei video molto particolari che io faccio e di conseguenza, dato che sono molto particolari, ne faccio soltanto una decina al mese. Sono rimasti veramente pochi posti per questo mese di maggio. Perciò mi raccomando, chi fosse interessato ad avere informazioni per quanto riguarda lo svolgimento di questi video, può chiedermi informazioni sia al mio numero di Whatsapp sia al mio indirizzo di posta elettronica. Vi ricordo che il video messaggio di oggi può essere riferito sia alla giornata odierna o nel momento in cui andrete a vederlo. Iniziamo subito con la prima carta oracolo. Vediamo un po' che cosa ha da dirci la prima carta oracolo. Qual è la dea che viene fuori? Vediamo se viene fuori da sola. Oh, è venuta fuori da sola, vedete? Allora, la dea di oggi è Helen, gli schemi. Adesso andremo a vedere che cosa ci vuol dire, appunto, la nostra dea. La nostra dea. Eccoci qua. Allora, vediamo che cosa ci dice la nostra dea Helen. Messaggio per la presa di coscienza. Osservando la tua vita hai notato degli schemi che conducono a esperienze favorevoli, sviluppando abitudini positive. Potrai introdurre nuovi schemi nella trama della realtà e sostenere i tuoi sogni mentre prendono forma nel mondo materiale. Per fare ciò servono consapevolezza e disciplina, ma puoi farcela. È tempo di dare spazio a una nuova felicità. Se ne sarai capace, la dea celtica dei percorsi e degli schemi Helen ti mostrerà una nuova strada verso i tuoi sogni. Sono possibili miracoli in ogni sorta. È anche il momento giusto per costruire ponti che annulleranno qualsiasi divisione, che potrebbe aver allontanato temporaneamente le persone a te care. La vita è chiara e ti sarà mostrata mentre compi nuove scelte di vita sotto una felice guida di Helen delle strade. Il messaggio di allineamento. Quando ti addormenti sugli allori della tua vita o quando ti aspetti che le cose vadano sempre come d'abitudine, emergono schemi familiari. Qualunque sia la situazione in cui ti trovi adesso, accetta l'invito a coglierla come un'opportunità di oltrepassare i limiti della tua prevedibile delusione e del tuo comportamento abituale. Se continui a far ciò che hai sempre fatto, continueranno a ripresentarsi i soliti schemi. Se non hai bisogno di ricevere un'altra volta la stessa lezione e non vuoi ripercorrere una via già nota, insieme alle solite persone, alle stesse condizioni, con gli stessi risultati, allora devi scegliere di pensare, di agire e di essere diversamente. Ellen delle strade ti affida questo compito di allineamento. Impegnati a cambiare strada e scegli di esplorare nuovi sentieri. È tempo di riflettere sul tuo bisogno di aspettarti sempre il peggio, di restare sulla vecchia strada anche se non ti conduce alla felicità. Ellen ti mostrerà la nuova via, devi solo seguirla. Allora, in poche parole, qui il nostro primo messaggio, quello che apre soprattutto il messaggio di oggi è che se vogliamo qualcosa di diverso dobbiamo fare qualcosa che mai abbiamo fatto. Vediamo se riusciamo a capire con le altre carte di che cosa si tratta questo messaggio e questo è questo soprattutto cambiamento di schemi. Vediamo un po'. Ci parla appunto di... La luna. La luna ci parla di desideri. Vediamo un po'. La carta della luna dell'Enormand ci parla di qualcosa che magari ci ha illuso, qualcosa che ci sembrava in un modo e che magari poi si è ripresentato in un altro, qualcosa che poteva essere o quantomeno noi speravamo che fosse in un determinato modo. Mi parla appunto di un qualcosa di misterioso, magari mi può parlare anche di ricordi, di passato, di malinconia. Può essere anche un qualcosa che riguarda la creatività, l'immaginazione, una sorta anche di intuizione, una forte emozione, dei ricordi, qualcosa che vi ritorna alla memoria. Potrebbe anche riflettere un qualcosa che vi ha illuso, un mistero che non è stato ancora svelato, ma che vi può portare sulla strada giusta per riuscire a decifrare questo mistero. Vediamo ancora che cosa ci dicono questi altri oracoli. Allora, sono in pace, ci dice, la pace e l'armonia divine mi circondano e risiedono dentro di me. Provo tolleranza, compassione e amore per tutte le persone, compreso me stesso. Mi potrebbe anche parlare di un perdono questo messaggio. Vediamo ancora che cosa abbiamo. Vediamo cosa abbiamo ancora. Vediamo un po'. Qualcosa di importante. E prendiamo anche un oracolo delle energie. Un imprevisto, un intoppo, una difficoltà. Allora, secondo me qui c'è un... In questo messaggio vi vuol dire che ci sarà un qualcosa di importante che avrà un blocco, avrà un imprevisto, avrà un intoppo. Questo voi non lo dovete prendere come un qualcosa di negativo, ma lo dovete prendere come un qualcosa che vi faccio riflettere, un qualcosa che potrebbe nascondere un mistero, potrebbe nascondere un qualcosa che non è stato ancora detto, che non è stato ancora svelato. Scusate. E di conseguenza vi dà l'opportunità di procedere in modo diverso e di conseguenza sveltirlo o quantomeno procedere per la giusta risoluzione. Vediamo un po' cosa ci dicono i nostri angeli. Si deciso. Perciò con questo intoppo di questa situazione importante che vi porterà a scoprire un qualcosa che non è stato detto o che è stato detto male. Si potrà ritrovare l'armonia, la tranquillità, la pace, semplicemente avendo la pazienza e la tolleranza di saper aspettare, di vedere la situazione in modo diverso e soprattutto di essere decisi. Vediamo per quanto riguarda una situazione sentimentale. Perché qua stiamo parlando di una situazione, potremmo parlare di una situazione materiale. Vediamo per quanto riguarda se ci fosse una situazione sentimentale. Ah, no, invece qua abbiamo proprio denaro e lavoro. Le questioni economiche e lavorative rappresentano un fattore determinante in questa relazione. Potrebbe essere una relazione proprio che ci porta al denaro, ai beni materiali. Potrebbe essere anche l'acquisto o la vendita di una casa, un'eredità, una sentenza che può riguardare anche una separazione. Vediamo un po'. Che ha una battuta di arresto. Nome di abbondanza. Vediamo. La vita è meravigliosa. L'intenso lavoro e la dedizione che hai riservato ai tuoi sogni ti porteranno profonda pace e grande appagamento. Come diceva la nostra carta qui. Concediti un po' di tempo per godere di tranquilli momenti di riflessione e di svago. Sentiti libero di concederti piccoli lussi. Ti sei guadagnato la sicurezza e l'indipendenza finanziaria. Anche qui mi parla di denaro. Andiamo a vedere qual è la carta dei tarocchi che viene fuori da questo messaggio. Vediamo che cosa ci dice per la giornata di oggi. Vediamo un po' qual è la carta dei tarocchi che viene fuori per questo messaggio rivelazione di oggi. Vediamo. Oh, abbiamo la forza. Una carta veramente, veramente molto bella. Vediamo che cosa ci vuol dire questo arcano maggiore dei tarocchi. Vediamo un po'. Vediamo, vediamo un po'. Eccola qui. Abbiamo la carta della forza. Come vedete io prendo sempre il mazzo di carte con la stessa iconografia. Coraggio, lotta. La forza indica l'addomesticamento amorevole della natura selvaggia e rappresenta il perfetto equilibrio tra un dominio amorevole dato dalla forza del proprio animo e le feroci passionali e le feroci passionali istintuali che se non correttamente incanalate possono risultare divoranti. Leadership, leadership, passione e coraggio. Andiamo alla prima. Leadership per oggi. Oggi puoi contare sul magnetismo che sai di emanare, sulla tua forza interiore, sulla capacità di importi, sull'intelligenza in grado di dominare gli eventi e di influire sugli altri. In amore non devi perdere il controllo. Usa le armi e la tua disposizione con prudenza e saggezza. L'empatia e la forza interiore sono qualità che attrarranno in una più profonda unione te e il tuo partner. Nel lavoro. Sul lavoro hai la capacità non solo di affrontare gli eventi ma anche di governarli senza lasciarti sopraffare. Il tuo magnetismo attira al tuo fianco ottimi collaboratori. Pensando a se stessi. I fatti ti stanno facendo capire che avere carattere non significa essere aggressivi verso il proprio ambiente e imporsi schiacciando gli altri. Avere carattere vuol dire non temere di mostrarsi per ciò che si è, per ciò che si è, forti di una solidità emotiva e psichica. Il simbolo su cui puoi riflettere oggi è il cielo. Rappresenta l'intelletto in azione. Conferma l'idea che la forza, quella vera, quella che serve, è un atteggiamento che viene dal profondo di sé e non una mera manifestazione esteriore. Poi abbiamo la passione. Oggi non nascondere la tua natura istintiva dietro una maschera di palli da virtù. Non ne hai bisogno. Apriti alle forze spirituali, dominandole gradualmente e incanalandone con amore. Così facendo, disporrai sia della tua forza primordiale che di tutte quelle riserve che finora hai usato per soffocare la tua natura anziché per guidarla. Oggi in amore potresti ritrovarti in una storia d'amore appassionata e focosa. I sentimenti intensi suggeriti da questa carta possono indicare sia una relazione forte che una incline alla rabbia, alla gelosia e ad altre espulsioni emotive. Oggi al lavoro. Bensì si uniscono in un'unica forza imbattibile. Il simbolo su cui puoi riflettere oggi è il leone. Rappresenta l'istinto animale, il desiderio e la passione, ma anche la gelosia e la rabbia che è molto incontrollabile in certe situazioni della vita. Tuttavia, guardandola attentamente, esso sembra essere addomesticato. Ciò significa che la forza ha saputo vincere, senza distruggerli, i propri istinti animali e che da essi ha attinto una forte energia. Poi abbiamo il coraggio. Oggi il tuo coraggio e la tua resilienza ti aiuteranno molto e la tua audacia indica che non dovresti avere problemi a dire quello che pensi. In amore la tenacia dei tuoi sentimenti è ripagata. Non hai nulla da temere sulla fedeltà e sulla sincerità del partner. Le difficoltà vengono superate grazie alla tua capacità di determinazione. Al lavoro, raccogli la tua forza d'animo per fare grandi passi. Se stai cercando una promozione, fai qualcosa per farti notare. Se desideri cambiare la tua intera carriera, provaci. Se stai sognando di avviare un'attività improprio, fai il primo passo e inizia. Pensando a se stessi. Hai in te il coraggio per affrontare le tue paure e dominarle senza lasciarti sopraffare. Da loro. Il simbolo su cui riflettere oggi è la fanciulla. Indica che il coraggio è soprattutto una forza interiore, non certo fisica. Visto che una giovinetta esile e minuta non può avvalersi di questo tipo di forza materiale. La fanciulla infatti, aprendo le fauci del leone, manifesta la propria calma interiore. La fiducia in se stessa è un coraggio fuori dal comune. Questo è quello che ci dice in questo messaggio rivelazione di oggi la carta della forza. Per terminare vi dico anche un messaggio del mio bellissimo mazzo alla bellezza della vita. Vediamo che cosa ci dice oggi la nostra carta. Non conosciamo le persone per caso. Tutte sono destinate ad incrociare il nostro cammino per una ragione. Bene, questo è il messaggio rivelazione di oggi. Spero che vi sia di incoraggiamento, di aiuto, di propensione appunto a cambiare quello che si deve cambiare per poter andare avanti. Se avete intenzione di cambiare una situazione, prima di tutto cambiate il vostro modo di fare, il vostro modo di pensare. E tutto ciò che desiderate si potrà avverare tranquillamente. Mi raccomando, l'intoppo di questa qualcosa in questa situazione importante della vostra vita non è un intoppo tanto per esserci ma è un intoppo provvidenziale perché sicuramente dovrete andare a capire determinate cose. Se così fosse, se vi ritrovate in questo messaggio, vi chiedo cortesemente di farmelo sapere tramite commento e qualora voleste parlare con me in modo privato, prendetevi come sempre i miei contatti. Io con questo vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo al prossimo video.